Buongiorno cari miei amici, nuova giornata, nuovo vlog. Noi con Giada siamo arrivati altra volta al mare. Giada è una ragazza autistica che si è addormentata. Giada, andiamo, è pronta? Dai! Brava amore, ora si va, eh? Cari miei amici, anche oggi io ho proposto a Giada venire con me al mare perché girare per la città, quando io libera dopo le sei, mi conviene proporre andare al mare. E ora andiamo al mare fino a otto, quattro e mezzo, mare qui vicino e andiamo a camminare fino a otto. Giada, guarda come siamo belli qui! Ciao amici! Che bello qui, si vede tanto! Andiamo verso la macchina, prendiamo ora Panino. Panino solito con prosciutto crudo e ce l'ho anche per Giada e poi ce l'ho anche schiaccia secca, dove è macchina? Qui deve essere, andiamo Giada! Cari miei amici, abbiamo mezza oretta prima di partire a casa, siamo qui con Giada e andiamo a mangiare schiaccia secca e qui c'è Panino, solito Panino con prosciutto crudo. Pane bianco, mi è capitato perché ieri non ho avuto, non comprato, era finito e dovevo comprare panne bianco, in solito io mangio panne, panne nero, quello integrale. Panchina, c'è Panchina, c'è Prosciutto Anche Giada Buono questo pane bianco, però meglio prendere integrale perché pane bianco povero non ce l'ha niente, povero di niente, non ce l'ha nutrimento per corpo. Mamma mia, mani brutte, mangiamo, non ho preparato carta, che si deve fare? Buono pane E tua acqua, vediamo Ce l'hai bottiglietta da bambini da quelli otto mesi. Wow Livissima, eh? Bambina Ce l'ha manini piccoli e gambini piccoli ce l'ha. Ehm, a bevi siete? Vediamo se... Ce l'ho scazza seca. Non so se l'hai mangiata, scazza seca. Ehm... Questa è buona. Quella secca secca. Mi piace secca, non so se conosci, se non conosci. Questa strabona Giada. Piano piano si mangia. Pico 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 Appare Pico Ma non Niente E Asagio Coglio Coglio io ce l'ho un mano, non ti va? non sei abituata? è buona, tieni mangi dura deve essere così dente ce l'hai già da te ce l'hai 30 anni quasi già da sei ragazzona di 30 anni, dente ce l'hai più di me tieni già da non ti va aspetta questo mia e questa tua bene bene bravo ragazza autistica se qualcuno mi vede per la prima volta ragazza autistica nata normale ma da cinque anni è diventata così dopo vaccinazione di morbillo di di tutti vaccinazioni così vita rovinata per se e per sua mamma ragazza autistica ragazza autistica sguardo provi a mangiare non vuole non sei abituata, vero? amore assaggi è morbido è morbida niente non ti va abituata panino mangiato volentieri prima prosciutto finito dopo pane vediamo si paga o non si paga allora si comincia a pagare 31 maggio dopo si paga ora gratis per ora gratis tutto maggio ancora gratis e poi così piano brava brava si mette comodo